Sì, per tincelli Ottimo, si accomodi pure Prima per favore, guarda Vai proprio Un pochino di mucchina Sai, ci fanno storie, eccetera Vediamo un po' Ecco qua Così Siamo protetti Siamo protetti, siamo a posto Bene Allora, lei è Signor per tincelli Ed è qui per Scusi? Ah Ho capito un'altra cosa Vabbè Cerco un attimo La sua cartella Il suo Il suo foglio clinico Va bene Sì, subito Le lascio in questo Ok Può cortesemente compilare I soliti dati Se ha avuto febbre Nei ultimi giorni Sì, in un'altra prossima Un po' pallosa Ma Sappiamo tutti che è così Bene Allora, io segno Oggi Ne abbiamo L'uno No, scusi Il 30 Il 32 febbraio Sì Del 1990 90 90 90 Giusto Sì Il 1990 90 90 90 30 febbraio 32 febbraio Bene Ottimo Segno Per doncelli Per Visita medica Di controllo Possiamo lasciarlo anche così Se lei Va bene Sì Magari intanto ci facciamo qualche risata Così Tra noi Bene Visita Medica Di controllo Ottimo Bene Ogni tanto Mi segno Qualche punto Su quello che sta succedendo Ma nulla di più Avevo un attimo Un piccolo Brazo Veloce Bene Mi do una sistemata E direi che possiamo iniziare Tu quanto? Perfetto Qualche Solita Domanda generale Di prassi Insomma Sa quelle che Si fanno all'inizio Nelle visite di controllo Per sapere se Va tutto bene Se È tutto a posto Se c'è qualche Qualche complicanza Insomma Le solite domande Le solite domande di prassi Ok Allora La prima È Le piacciono i pudini Bene Quindi Ok Budino Ancioccolato Bene Ottimo Poi Ha avuto Qualche sintomo Particolare Nell'ultimo periodo Anche i piedi Per dire In generale In qualsiasi zona Insomma No Ah Ok Va bene No No Non si preoccupi Ultime Tre Domande Allora Innanzitutto Vorrei sapere Se Visto che Credo sia uno dei pazienti Più carini Che ho avuto Fino ad oggi È sposato A una fidanzata A una fidanzata O è single Così Io chiedo per chiedere È single Direi che questa visita La possiamo fare anche gratuitamente Se l'è piacere Se fosse stato sposato All'incirca A 7000 euro Eh già Va bene Ultime due domande Allora Per caso Ha fatto il vaccino Non necessariamente Per il covid 19 Ma in generale Ha fatto qualche vaccino Per qualche malattia Oppure Non ha mai fatto Dei vaccini In generale Ok Che causano in lei Delle alterazioni Insomma Qualsiasi cosa In generale Uno la sera Va bene No 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 Non è importante In questo momento Mi bastava soltanto Sapere Per Toccelle Ok Bene Adesso Cominciamo con la nostra Visita medica Non sarà molto Molto lunga Perché È soltanto una piccola Isla di controllo Però comunque Abbiamo un po' Di accertamenti Da fare Bene Bene Ok Cominciamo Subito La visita Allora Innanzitutto Vorrei sapere Se Ha paura Si sente Ha fame Vuole qualcosa A mangiare Una pasta al tonno Va bene Va bene Allora Io Ora Vado a Misurare Il cuore Se sente Fastidio Me lo dice Le porto Una pizza Va bene Perfetto Allora Direi che Possiamo Cominciare Subito Ok Sarà una cosa Molto Rapida In realtà Allora Allora Io utilizzerò Questo strumento Che è Un Oggetto Che serve Per Per Lavare i denti Che avevo Anni fa Ora non mi serve Possiamo usare Per misurare il cuore Ma cosa Ve lo faccio Allora Questo lo attacco Al mio cuore E con La Spirale Qui Vado a misurare Anche il suo Con questo aggeggio Che sarà Per pulire i denti Ok Bene Vado Allora Cominciamo A sentire Ok Facciamo Un respiro Profondo Ok Ancora Sta respirando Ok Mi sembra Che Sia tutto A posto Ok Bene Adesso Facciamo Un'altra cosa Allora Scrivo Due appunti Molto veloci In realtà Ok Per il momento Tutto ok Le consiglio Se ha voglia Ogni tanto Di mangiare Un kinder cereali A me Li trovo Molto buoni Adesso Proseguiamo Utilizzo Questa Penna Fatta di Plastica Ok Per Controllare Se c'è qualcosa Nel naso Cioè Farò letteralmente Questo Andrò su E andrò su In tutte Le narici Potrebbe sentire Fastidio Essendo che Appunto Ci sono Tutti Questi Questa parte Che dà un po' Fastidio Però mi serve Perché una volta Tolto Se Trovo Se trovo Le caccole Vuol dire Che lei È sano Se non le trovo Vuol dire Che lei Non è sano Perché In un naso Normale Ci sono E quindi Controlliamo Se c'è Della materia Verde All'interno Del suo Naso Va bene Perfetto Cominciamo Vado È sicuro Bene Qualcosa c'è Ok Facciamo anche L'altra Qui molto di più Va bene Mi segno Anche questo Direi che Per il momento Sta tutto Molto bene Ok Adesso Vado A Spazzolarle I capelli Se trovo Dei bidocchi Vuol dire Che lei Ha i bidocchi Se non Trovo Dei bidocchi Vuol dire Che lei Ha la Cotte sana Ok Facciamo molto Con calma Delicatamente Va bene Ho questa Spazzola Un po' Particolare E questa Dovrebbe Aiutarmi Maggiormente A Trovare Insomma I bidocchi I bidocchi E eventuali Uova Di bidocchio Ok Bene Cominciamo Lei è pronto Ottimo Vado Ok Le Le utilizzerò Entrambe Anche se Questa è La mia Preferita Perché È molto Delicata Ok Vado Si avvicina Un po' Di più Ok 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 Bene 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 Abbiamo quasi Di fatto Sa Controllo Con questo Con questo Strumento Se c'è qualcosa In particolare Di cui preoccupa Bene 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 Allora Un attimo Scusare Ok Perché Non vedo Niente Ok Vado Vedo Ancora meno Ma Vabbè Proviamo Comunque Vediamo Cosa succede Allora Sono giunta A una conclusione Ne ho trovato Uno Il giusto Necessario Affinché Contamini Tutta la testa Quindi Anche se Ora Non ha i pidocchi Tra due giorni Li avrà Quindi Siamo Tranquilli Insomma Bene Adesso Direi Che Possiamo fare Qualcosa Di un pochino Più serio E Insomma Particolare Anche per lei Cosa Ne dice Allora Andiamo a controllare La gola E le orecchie Con questo strumento Quando è pronto Me lo dice E io provo A controllare Abbra grande 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 La bocca Ok 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 Adesso Facciamo Un orecchio Prima L'orecchio Sinistro Faccio un bel respiro Si è pulito Le orecchie Prima di venire Da me Ok Orecchio destro Bene Ok Mi hanno noto Due cose veloci Soltanto Che È il caso Di lavarsi Le orecchie Ogni tanto Per il resto È tutto sano Ok Adesso controlliamo Se nel suo corpo C'è della saliva Inserisca Questo Apre leggermente Le labbra Lo inserisce In bocca Se quando Lo tiriamo fuori Troviamo Della saliva Allora vuol dire Che lei è sano Se è completamente Asciutto Vuol dire Che c'è qualche problema Perché tutti gli esseri umani Hanno la saliva E quindi bisogna accertarsi E quindi bisogna accertarsi Che lei abbia la saliva Sì Io direi che c'è saliva Quindi sì I denti Li ha lavati Ogni tanto Ho trovato Qualche foglia Di insalata Ma Quello capita Raramente Con lei è capitato Ma non importa L'importante È che lei Sia single Quindi Se lei è single Allora Possiamo stare tranquilli No Magari ogni tanto Una lavatina I denti Giusto Per non avere Le foglie Di insalata Se a piacere Insomma Va bene Ok Annoto Che c'è saliva E qualche pezzettino Di insalata Allora Signor Per doncelli Ok Per il momento Come si sente Sta procedendo bene La visita E ha suo raggio Un po' a disagio No Ma si ricuri No Bene Ci mancano Gli ultimi due passaggi Allora Adesso Vado a Controllare Che Non ci siano Particolari Problemi Nella zona Del viso Passando Questo spazzolino Semplici Proprio È uno spazzolino Di Cantica Del Drago verde Quindi è proprio Uno spazzolino Di quelli Quelli che trova Proprio in commercio Insomma Può stare Assolutamente tranquillo Vado Con questo spazzolino A toccare Varie parti Del suo corpo Così Se questo Aggeggio Suona Vuol dire Che c'è Qualche problema Se non suona Vuol dire Che lei è sano Va bene Vado Ovviamente Ovviamente Io Non mi addentro In Diciamo In zone private Ad ecco Quelle Sono zone private Vado Allora Ha sentito Dolore Ok Guardi Direi che È tutto a posto Insomma Ci manca Soltanto Il peso All'altezza Con questo telecomando Quando Lei sarà Sopra La bilancia Io Selezionerò Vado pure Sopra Ok Vediamo Ok Direi che È un peso Che può andare Ora Controlliamo L'altezza Vado vicino Al metro Sì Ok Molto bene Schiaccerò Due tasti Il primo Segnerà Lo zero Il secondo Segnerà L'altezza Vado Zero Ok Adesso Adesso L'altezza Minale Ok È un po' bassino Lei è un metro e quarantadue Però Dico In generale Alcuni Alcuni pazienti Sono Leggermente più alti Un metro quadrato A quarantadue Molto basso Però Crescita No Bene Le devo fare Ultime due domande Prima di terminare la visita Per essere Sicura Senza problemi Senza Alcun tipo di Pensiero Si è trovato bene? No Va bene Succede insomma E Lascio la visita gratuita O Le faccio Un sconto Gratuita Se lei si sposa con me Cosa preferisce? Ah Vuole andarsene dallo studio Però Mi ricorderò di questo Signor Bertoncelli Non me lo ricorderò Questo È il conto Vista la sua gentilezza Sono 12.979 euro Prego Va bene Arrivederci Grazie per essere Stato insomma Nel mio studio E Mi sembra di averla messa Più che a suo agio Ma Se lei Si vede che Abbiamo qualcosa Non siamo d'accordo In tutto Ecco Può succedere Io credo che possa succedere A volte Non andate d'accordo Con le dottoresse Però Io ho cercato di metterla Insomma A suo agio Ecco Arrivederci Buona giornata Salve Salve Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti